Lei è a Pescara per due mesi perché fa un filocinio alla Caritas in questo momento. All'età di 16 anni era sul parco per la prima volta. Da quel momento viaggia attraverso la Germania e sta facendo conoscenza con i parchi dell'Italia. E ora si cimenta anche con le poesie in italiano. Lea era nella finale del campionato tedesco Anderbetti del Poetry Slam. Poi ha partecipato al campionato tedesco a Berlino. Il suo libro è stato pubblicato nel 2020 e si intitola... Signore e signori, ecco voi. Lea Sophie Keller. Grazie. 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 Buonasera a tutti. Una coincidenza assurda, sembrava che ci siamo messi d'accordo e qui ce l'ho vicino. Cos'è? Un'uguale ma senza vedere. 9,7 e 9,7? Sì. Te l'ho detto dove mettere virgola. 9,5. 9,5. 9,1. 9,1. 9,1. Grande applausione. Che fate però che fanno tutti i nomi? Cos'è che fai giù? Un 9,7. Un 9,1 o un 9,7? 9,7 giù, 9,1 giù. Buonasera. E vorrei anche dire una cosa. Sì. Allora, nonostante io non sia un fan della poesia politicamente corretta, proprio non so se è un fatto di traduzione di come parla l'italiano, ma era proprio scandita. Non so se era... Tadatta, 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 tattattattum. Tadatta sul tempo, eh? Sì. Sì.